Buongiorno e bentornati a questo nuovo video di Slime vs Smasherin 2. Questa volta vi farò vedere il quadro livello 4-8. Questa volta vi farò vedere il quadro livello 4-8. Questa volta vi farò vedere il quadro livello 4-8. Questa volta vi farò vedere il quadro livello 4-8. Questa volta vi farò vedere il quadro livello 5-8. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!